Dopo la morte, è clinicamente testato, scientificamente approvato, appurato, che qualcuno torna indietro. Sì, il brufolo è ancora lì. Qualcuno può tornare indietro. Incredibile, ma vero. Ogni tanto accade che al di là dei confini, al di là della luce, lo spirito rimane legato al corpo fisico e tenta di tornare. Stasera sperimentiamo tutto ciò. Stasera sperimentiamo l'occulto. Ragazzi, preparatevi, perché questa è una horror night come non le avete mai viste. Stasera giochiamo un gioco che effettivamente per me è horror, per me fa paura. Sperimentiamo e giochiamo The Mortuary Assistant. Ora vi spiego il gioco di parole del titolo di questa live, Mortuary Ass, perché Andrea, il burlone di corte, il giullare, il pagliaccio, ha deciso di togliere la parte instant da assistant e di lasciare ass, in modo tale che venga fuori Mortuary Ass. Fermi. Spieghiamo dunque che la traduzione in italiano di Mortuary Ass è culo mortuario. Devo rispiegarlo. Avete capito l'ironia della cosa? Ok, io non sono d'accordo con tutto ciò, però è successo. E quindi così si chiama questa serie. A posto? Siete... avete... Ok, l'importante è questo. Culo mortuario. Esatto. Bentornati bestiacci in questo incredibile live dal sapore di sentenza, di morte, di giudizio, di preoccupazione. Stasera appunto interpretiamo i panni di lei, il quale nome non mi ricordo perché non me ne frega un cazzo perché ho giocato la demo anni fa, anni fa, mesi fa, e finalmente è uscito adesso, 2 agosto, il gioco in versione completa. In italiano? Beh no. Assolutamente. Beh no. Perché noi non contiamo un cazzo, perché noi siamo morti. Noi siamo morti. L'Italia è un paese morto. Morto tanto quanto i morti che giocheremo, che spelleremo in questo gameplay, perché lo scopo è quello di preparare le salme per quella che è poi la pagliacciata del funerale, dove ci sono i fazzolettini, la gente che piange, bla bla bla, nonostante il morto sia già morto, da una settimana, la gente continua a piangere per una settimana. Imparate a staccarvi e lasciar perdere, porca troia. Imparate a staccarvi e lasciar perdere. Spero di non offendere nessuno con queste parole. Se l'ho fatto, beh, non importa. Cesar, Rinnegan, attenzione, poi, chi l'altro c'è? Chi l'altro? Grazie Mela, Rotu Valhalla, grazie mille bestiacce, Toregim, sai chi ringraziare? Ringrazia Mela subito adesso, altrimenti verrai bannato. Una nuova regola. Cristian, ancora, Atenax, incredibile, Rotu Valhalla, tutti quanti voi. E adesso vi saluto però. Garold, Iaco, Genix, Sonia, Gesù, Imperius, Dario, cos'è, chi l'è questa? Smemone, Smemonet, Roberto, Particelli, Samuel, Elena, poi aspetta, Polifemo TV, WM, Lori, Alex, ci sto riuscendo a leggere il Matrix, riesco a leggervi dentro, Pino, Pino 03, Cucinetti, incredibile, Ingro, Bitcop, poi Buizza, Alex, aspetta, aspetta, è troppo veloci ragazzi, Lello, Lullo, Lello, non so che cazzo è, Enjoy, Pinak, e poi Ragnar 4, grazie mille Rotu Valhalla, Well, Ciao Ghost, Siaoni, Zenki, e poi Ultimo, ma non Ultimo, o forse Ultimo era, e forse Ultimo è rimasto, e forse Ultimo sarà, o Ultima, perché no, insomma, dobbiamo anche, eh, integrare, interagire, integratore, WENHEDA, WENHEDA, o l'H, io la pronuncio l'H, perché l'H è ispirata, HEDA, WENHEDA, anche nel Valhalla, si dice Valhalla, non Valhalla, Valhalla è una marca di pannolini, ve l'ho sempre detto mille volte, ok? Ci siete? No, 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 voi Ultimi non è inutile che salutate, non importa, sarete Ultimi un'altra volta, quindi direi di partire, bestiaccia, intanto facciamo partire quel gioco, e giocherò su PC, dirigerò il Cresta, Dino, musica di Ennio Morricone, Mortuario Assistant, è crashato il gioco, no, sta andando, che è sta roba? Ma si sente, ma non sento l'audio, c'è, ma che è? C'è o non c'è? C'è, ma c'è ma è storto, c'è ma in parte, ma porca puttana porca, come scurrile, eccoci qua, warning, attenzione, attenzione ragazzi, ci siamo, what you are about to experience, questo è, con Bubble imparerete la lingua inglese, solo l'inglese, il resto, is based on real paranormal evidence, capito, è quello che state per sperimentare e basato su eventi paranormali, reali, che poi questi eventi paranormali non esistano, è un'altra questione, demortuari ass, new shift, option, exit, partiamo con new shift, tanto ormai sappiamo già che cazzo fare, più o meno, non mi ricordo i tasti, ma meno male mi ricordo, qualcosa, loading, ci siamo, ci siamo, questa serie ovviamente sarà anche su youtube, quindi lo dico già adesso, giusto per essere retroattivo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella dell'avvisi, delle notifiche, incredibili, è la protagonista? Ma non era così prima, sei venuta così lontano, ma che è stato? È tutto, è tutto in inglese, non rompete i coglioni e non c'entro niente, l'ho detto prima, lei ha la stessa faccia del mostro che c'era nella demo, come cazzo tiene la tazzina? Questa pausa d'effetto, Rebecca, Maddie, grazie mille, l'ultualhalla, sì sì, un nuovo lavoro, nuove occasioni, incredibile, le animazioni sono eccesse, vedete? Queste enfasi sui movimenti delle mani, devono essere forse un pochino italiani, non ho mai capito perché dicono che noi italiani gesticoliamo tanto, non è assolutamente vero, quindi non capisco, che cazzo succede? Oh guarda, una croce, no ma parlate di più dentro il microfono per favore. Questa è la quadratura del seno vergine, Maria? L'ha preso? Quando inizierai vestire i cadaveri. Fuori sta scoppiando il finimondo, sentite? Vabbè, direi che il suo lavoro è un lavoro a tempo pieno, dal momento in cui probabilmente l'incidente che è stato causato là fuori provocherà un'ingente quantità di danari per la sua attività di morte, perché è questo che è, un mercante di morte. La modaiola della morte. Grazie per i cento il ceba. Riverfields, mortuari. Bello. La macchina verde non la scegli, te la danno. Buono. Ah, così. Eccoci, siamo tornati qua. Posso uscire? Siamo chiusi dentro. Non posso interagire con niente. Ah, col tasto destro si apriva sta cacata, giusto? Che questa specie di occhio dell'aquila è proprio incredibile, come la Ubisoft abbia influenzato il mondo videoludico in peggio. Questo è il bagno. Possiamo tirare lo sciacquone. Ma, vedete? Non è la stessa tipa, è un'altra tipa. Qua, ah sì, qua c'era la cacata se saltava la corrente, la signorina ancora qui. Tutto molto familiare. Sera, salve. Se apri gli occhi, io te li cavo. Allora, vediamo cosa c'è scritto qua sopra. Rebecca, one last thing I forgot to give you. Please grab a pencil from the desk and sing thanks. Zoe, PS, good luck. Bene, buono. Quindi serve una, 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 una mia. Una pencil, eccola qui, ma è una matita. Usalo per segnare sulla carta, bla bla bla. Wall paper left on the door. Ok, questa ce l'abbiamo. Tra l'altro qua. Oh, 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 oh. Oh, Bonnie. Ah sì, devo andare qua. Questo. Oh, ho capito. Questo. Ho capito. Ho capito. Sì, è una penna. Che cazzo vuoi che mi dica? Perfetto, mettila qui. Ma, ta. Non, però, non riesco. Eh beh, drop. Vaffanculo. Dov'è? Eccola qua. Ah, ci si vede le gambe. È un bel gioco. È un bel gioco. È un bel gioco. È fatto bene comunque, graficamente, eh. Poi scorre, scorre veramente bene. Forse ci si, sì, ci si poteva abbassare, esatto. Eh, qua ci sono le cartelline, se non erro. Ottimo. Qua c'è da leggere sta cacata. La porta non la posso aprire. Io vorrei mettere, non riesco. Eh niente. Non riesco. Non riesco. Non riesco a mettere la matita nella mano. Non so che cazzo. perché forse sto sbagliando il tasto. No, era il tasto destro. Esatto. Pensi. Come? Non posso usare questo qui. E niente allora. Basta. Non lo faccio mai più. Perdonami. 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 Cos'è sta roba? Ah. Cristo. È tornato. Che occhi che ti scrutano. Che occhi che ti scrutano. Allora, cerchiamo il resto. Dovrebbe esserci, se non erro, cosa? Qua da qualche parte. Non c'era mica una cosa per aprire la porta. Non c'era una roba per aprire la porta. Sono sicurissimo. Aspetta, ma qua ci sono dei file da leggere. Dei file. Calcolatrice. Via. Non serve a niente. Non posso spostare la poltrona. Sono carichissimo. Ho molta voglia di aver paura. Qua non funziona un cazzo. Sto già un po' cagando, effettivamente. Cos'è sta roba? Noodles? Ah no, sono quei simpatici dolcetti che ti... che vivi da sala d'attesa della nonna. Raymond Devers. Head Mortician. Ah, sono i... sono i fiammiferi? No, che cazzo è sta roba? Ah no, sono dei bigliettini da visita. Perfettamente impilati uno sopra l'altro. Incredibile. 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 Sto schiacciando. Eh sì! Che cazzo succede? Sto rompendo tutto. Metti giù! Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Allora. Allora. Un po' di caffè? Ottimo. È andata. Altra pensi? Ma la posso c'è per su? No. Vediamo un po'... Eeeh! Boom. Firmato. No? Ah, così? Me lo ricordavo diverso il gioco, eh? Di giorno? Rebecca, perfetto. Mi è saltato il cuore, ragazzi. Puttana vacca. Allora, intanto mettiamo i sottotitoli. Moving the dash has had. Use the journey to standing behind in the pressing the journey interact key. Then walk backwards with the journey down the hall. Fatemi un attimino mettere i sottotitoli. Allora, che cazzo è... Ah, siamo in qualità ultra. Incredibile. Mettete questi cazzo di sottotitoli. Magari l'hanno messo l'italiano, però, eh? Non ho effettivamente controllato. Chiedo che qua non si possa però cambiare la lingua, eh, infatti. E' niente. E' niente. E' niente. Ma chi è sto qua? Ma questo qua è il tizio che ci ha chiamato al telefono? Quello che ci ha dato il lavoro? Non possiamo frugargli in giro? Eh? Eh? Rebecca la ladra. Al cinema. Bello qui. E non posso fare un cazzo. Posso toccare il cadavere? Bello lui. Qua non posso fare un cazzo. E' niente. E' niente. Lo sfondo del desktop. Non l'ho visto. Cos'è che c'è scritto? Vediamo. Computer locked. Mica, che voce che c'ha un trombone, cazzo. Che vuoi? Dio buono. E' stata qui, non doveva ciapparlo su. E c'era dell'interazione. Invece no. Cos'è che devo fare? Che non mi ricordo più. Ha spostato in sta roba. Voilà. Vieni qua con me. Si apri gli occhi, te li cavo. Si apri gli occhi, te li cavo. Guardate come... Lei è una professionista. Come vedete, non ha neanche bisogno di toccare il carrello. To bring a body in our cold storage. Open the bay with the body's names. Pull on the bag. Vabbè, questa cosa era abbastanza ovvio. No, l'ho smollato. Aspetta, aspetta. E' un peso morto, ragazzi. E' un peso morto. Com'è che si chiama l'amico? Fica, che fatica che sto facendo. A posto. E' lui? Ci penso io. Ok. Aspetta. Ok. 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 Maldio. Ehi, che sicuro. Oh. E' difficile. Ma l'ho messo al contrario, forse. No, l'ho messo giusto. Ma non si attaccava in automatico. Eh. E che micchia. E' più complesso del previsto. Forse non lo sto inserendo bene nelle rotatoie qua. Però mi pare di sì. Al contrario, senti sicuri? Ma no. Ma perché al contrario? Scusa, se lo ferro da qui, lo tiro dentro da là. Ah, già. Devo tirar fuori questo. Che deficiente. Giusto, 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 giusto. Me l'ho dimenticato, ragazzi. Perdonatelo. Che fatica. Alla fine fare questo e fare il lavoro da magazziniere è un po' la stessa roba, eh. Opla. Opa la lai. Questa? Ah, la signorina Dorothy. Ok. Un momento oro non è ancora arrivato. Perfetto. Così. Questo lo spingiamo dentro. A lei. A voi. Cordiali saluti. Ottimo. Ottimo. Che lavoro defino, eh. A posto. Madonna, signora. Mi dispiace. Eh, capita a tutti. Il nostro canto del cigno. Ha una massa tumorale sotto la clavicola che è devastante. Poi gli hanno sparato. Era forse un vampiro. Non lo so. Devo portarla lì? Sì. Ah, guardate che hanno pur aggiunto la fisica. Non so se notate che ci sono tutti questi smottamenti, questi movimenti qua. Non c'era prima nella demo. Vedete i piedi che si muovono. Sì, pagami di più. Così, eh. A caso. A clipboard. Usa un'altra. Large item. Bara spaziatrice per tirar fuori il clipboard. Testa, shoulder, arm, leg, leg. Bene. Andiamo un po' a vedere, a ispezionare. Eh? Eh? Allora. 87 anni. Dorothy Page. Andiamo un pochino a vedere. Ispezioniamo le parti del corpo. Over the course of the unique. Vabbè, questa cara l'abbiamo già vista. Allora. Si può fare... Ah, per forza da qua? Vabbè, è rotate. Non c'è nulla di interessante se non questo marchio. Devo segnarlo? Cos'è sta roba qui? C'è uno strano aurea. Hanno aggiunto cose che prima non c'erano. Ma devo scriverlo sul... Aspettate un attimo. No. Non me lo fa fare. Mi ricordavo che devo cliccare sui marchi. Perché cambiare il gioco? Gioco, perché ti cambi? Andiamo un attimo se... Eh no, non me lo fa fare. Devo andare dall'altra parte, forse. Andiamo dall'altra parte. Ah! Ho visto le gambe staccate dal resto del corpo per un attimo. Eh, vabbè, mi chiedo andare dall'altra parte per fare questa stronzata. Qui c'è una goccia di sangue. Perfetto. Rotate. Non vedo altre... Altre motivazioni qua. Ah no, no, sulla spalla. Aspetta. Spavento, spavento. No, no, no. Che è? Oh, facciamo un po' uscire l'aria perché ragazzi va bene tutto. Con tutto rispetto. Però insomma, ecco anche no. D'altronde... La formaldeide funziona fino a una certa. Puzza anche, eh. Abbiamo qua dei brufoli. Perché insomma, come potete vedere, si teneva giovane. Si teneva in forma. Qui non abbiamo nient'altro. I famosi piedini che eccitano tanto ai giorni nostri. Cioè, ci sono delle abrasioni che compaiono solo quando roto il polso. Posto, posso? Vado. Allora, non mi ricordo più come cazzo era qui. Submit, record system. What was that? Eh? I didn't say anything. Eh? You alright? Oh. Yeah. I'm fine. Contusion. Qui. Oh, contusion. Qui. Oh, contusion. Qui. No, contusion. Oh. Lo fa... Ok. Poi, posto. Poi, abrasione a braccio sinistro. Se è destro. E poi, alla gamba sinistra abbiamo... Blemishus. Ok, a posto. Submit. Cos'è che manca? Cos'è che manca? 3 di 3. Che cazzo vuoi da me? C'è tutto? C'è tutto? Ah, il nome, giusto. Com'è che si chiamava? Dorothy Page. Non me lo sta scrivendo. Ah, perché lo devo scrivere così. Ok. Età 87. Io volevo scriverlo a mano. Emanuense. Invece no, non posso. Un'arte sprecata, ragazzi. Ma sta lagando o sbaglio? Sta leggermente lagando, ragazzi. Sta laghicchiandosi. Se devo abbassare un attimo la definizione. Sì? Ah, aspetta. Allora, adesso sistemo, eh. Ne sono a corto ora, ragazzi. Perdonatevi. Allora, abbassiamo un po' la definizione. Mettiamola... Ah. Spense il PC per errore. Facciamo così. Dimmi un po'. Lagga ancora? No? Ottimo. Che cazzo è sta roba qui? Oh. Oh. Embleming report. A packet of mortuari paperwork related to the handling of the cheese file up front. So they are available if you request. Large item. Vabbè. Ci appiamolo su. Andiamo a metterlo nella cassettina. Ma da quando ci sono ste robe sul pavimento che ti indicano la via? Sarebbe stato molto più pratico durante la demo. Avrei capito che cazzo fare. Ok, se lo jansi. Eh, metti la dentro. Ha messo dentro? Sì. Posto. Fatto? Vi ho vinto? Deciso? Ci siamo? Signor Cristo. Gesù. C'è qualcosa qua dietro? Non posso... No, non posso toccare la porta. Non posso toccare. Cretinetto! Ho dovuto fare la halla per i sette mesi. Spavento! Che cazzo devo fare? Che cazzo devo fare? Wire, jaw, shoot, needle, injector, setting, wire, oh madonna santa. Devo fare tutto sto casino? Ma non sono in grado. Il tutorial è lunghissimo, ragazzi. Non finirà mai. Allora, devo prendere il... Oh dio, non so da dove cominciare. Il needle injector. E quale cazzo è il needle injector? Sarà questo. Trocar, direi di no. L'ho preso? L'ho ciappato su? Porca troia. E questo qua è il needle injector? Needle injector. Che culo! Che culo! Che culo! Ok, no, ho sbagliato. Poi? Insert EIE caps to keep EIE shut. Ok? Ma ci devo ficcare dentro la... No, posso unirli questi due? Credo che questo vada inserito qua dentro. Così, eh. La butto lì, eh. La butto lì, eh. Aspetta, aspetta. Setting the face. Come? Pull the manipulator up and press the injector button to drive barbs into the skull. Then twist the wire to shut the jaw. The jaw. Bello. Però non abbiamo i marchi ingegni. Non posso usare la clipboard in faccia per tenere aperta la bocca, no. Peccato. Serve più roba, ragazzi. Guardate, ho un'idea. Sto sbagliando, sto sghiacciando tutti i tasti. Ho un'idea. Allora, lo scalpello, vabbè, sappiamolo su. Le fastite, la fastite, ragazzi, sapete esattamente che cos'è. Il moisturizing wipe, ottimo. Le IE caps, eccolo qui, quello che ci serviva. I tubi per drenare. Ah, non mi sta più un cazzo nell'inventario. Eh, non è vero, ci sono tre spazi liberi qua. Flex bag. No, non può tenere niente nell'inventario. E artery forceps. Questo lo posso prendere? Yes I do. Ok, ci siamo. E divertiamoci. Sta andando? Io non so che cazzo sto combinando. È giusto? Non lo so. Signora? Signo? Signo? Oddio. Non dovrebbe aprirsi in qualche modo? Tutto bene? E non è andata. Serve qualcosa. Manca qualcosa. Com'è che era la roba, ragazzi? Non mi sta in tasca, no? Mi sa che mi serve qualcos'altro, ragazzi. Forse quella roba che non abbiamo ciappato su. Fermi. I tubi, immagino. O il flex bag. No, penso i tubi. Però non mi sta nell'inventario. Allora, buttiamo giù qualcosa. La IE caps ci serve la fastite. Drop. Scusate. Bosmatica. E niente. Dio bono! Oh. C'è per lo suo, ma. Ritentiamoci. Ah! Ah! Pinzata. Si sta rompendo? Ci si... Madonna. Che meraviglia. Un sorriso smagliante. Gli rideremo gli anni perduti. Ma che meraviglia, ragazzi. Guardate che... Ah, ecco qua. Ci siamo. Credo io debba... Oh! Così. Ricluciamo. Perfetto. Oh! E gli abbiamo tolto quell'orribile smorfia di dolore che aveva antecedente precedente all'assassinio che gli è stato commesso. Gli hanno sparato in ascensore, ragazzi. Non prendete gli ascensori. Poi? Cazzo devo fare? Basta! Questo tab di merda. Insert IE caps. E gli è sciat. E gli è sciatiamo sti cazzo di caps. Placing E gli è caps. Quindi devo mettere sempre il manipolatore. IE allen. Interact with the IE place to cap. Then close the IE. E va bene. E va bene. Oh! Eccoci qua. Che meraviglia. Eccoci qua. Perfetto. Posto? Quindi? Se li facciamo semi aperti, da un po' più di vita? No? Non posso usare questo qui. Eh, vaffanculo. Non va in automatico? Come prima. E' molto difficile il tutorial. Oh! Si è impallato? Pronto? Oh! Aspetta. Devo aver rotto qualcosa. Ci siamo? Pronto? Non va più. Ragazzi, è finita. Non riesco più? Ah! Dio santo! Ah! Perché è una ventosa! Ho capito come funziona! Che schifezza! Io sono ignorante, ragazzi. Non potevo immaginare. Ma questo facciamo ai cadaveri? Bene. Quindi mettiamo una sorta di... Ma veramente così? Che schifezza? Non lo sapevo. Quindi si mettono una ventosa che ti chiude le palpebre da dentro. Bello, bello, bello. Veri nasti. Ma... Ma voglio fare sto lavoro adesso. Adesso dobbiamo mettere il fluido... Embalming fluid in the pump. Quindi dobbiamo mettere... In sta roba dobbiamo metterci dentro la roba. Che dovrebbe essere qui. No, questo qua è il flex bag. Forse dovremmo avercelo già. Aspetta. 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 È qui da qualche parte. Ne sono certo. Tutto ciò che ci serviva era qua. Ci serviva già nell'inventario. Forse dovrebbe essere quello. Cos'è questo? Che... 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 No, 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 no. Cos'è sta roba? Aspetta che devo leggere. Eh, no. No, l'ho droppato giù. Che cazzo. Il tubo. Non ho spazio. Butta giù sta roba. Droppamelo. Figa, ragazzi. È un po' rotto il gioco, eh. Nel senso che non mi fa cliccare sulle robe. Guarda, si è impallato tutto. Droppa giù sta merda. Pronto? E che è? È finita. Si è impallato. Ragazzi, mi sono impallato. Ottimo. Ho rotto il gioco. Non posso più uscire da sta schermata. È la fine. È la fine. Basta. Sono riuscito a scassare il gioco. In quanti minuti? Il record. Dieci minuti. Come cazzo è possibile? Ma è allucinato. E mo? No, non mi far uscire. Che non ho salvato. Ti prego. Bene. Bene. Mi sta venendo un leggero attacco di... Sto schiumando. L'ho premuto, eh. Ma secondo voi non premo, eh. Ragazzi, dai. Un po' di fiducia. Porca troia. Ma l'ho premuta, la E. Ma non sentite che cazzo di orchestra che c'era sotto? Che stavo premendo a continuazione la tastiera? A pugni la stavo prendendo. Porca puttana. Questo, vedete, è un finto caricamento. Nasconde il caricamento sotto una... Un Vultex di stronzate. Ah. Ah, continue. Continue. Fermi. Forse ho salvato in automatico. Forse è un gioco. Fatto bene. Che poi si impalli e ci siano dei bug. Questa è un'altra storia. Ho premuto F, dici? Possibile. Sì, ha salvato. Ha salvato o bugato. Sta a vedere? Porca troia. Ah, che bello. Che bello. No, figa. Da tutto da cavo. Posso saltare? Non posso saltare il pezzo. Vabbè, l'horror non è horror se non si fanno e rifanno le stesse cose sperando che queste prima o poi cambino. E niente. Vabbè, ma adesso sappiamo cosa fare. Poiché io non abbia memoria. Quindi invece appare su questa. Sì, lo so. Andiamo qui a firmare. E basta. La pensi. Fatto. Porta aperta. Via. Ah, possiamo anche correre. Jumpscare. Ma lo sapevo. Sì. Ok. Cazzo, allora dobbiamo fare tutto sto casino qua. Sì, lo so. Grazie. Facciamo una roba celere e veloce. Così. A me non riusciamo anche a imparare. Facendoli, facendo le stesse cose. Ragazzi ci entrano in test. Questi sono uno più da pratica che da 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 teoria. Vedete? Vedete? C'è una macchina, cazzo. È pesantissimo. Si sente proprio la pesantezza. Devo più volte muovere la mia mano, il mouse. Sto facendo una fatica vera, come in quei giochi dove si simula talmente tanto bene che si fa fatica vera. Staccati. Come cazzo era qua? Non mi ricordo più. Eh, bene. Perfetto. Ho rotto ulteriormente il gioco. Ti puoi staccare? Non so come... Ah, perché prima devo far qua. Simpatici. Posto. Ok. Ok. Lei va da dentro. Chiuditi qua. Lei venga qui con me. Perfetto. Di qua. Dentro di qua. Chiudo di là. E via. A posto. Un lavoro eccesso, ragazzi. Una speedrun di questo videogioco dove si sbucciano cadaveri che manco i coreani. Nel senso non che i coreani sbucciano i cadaveri. Nel senso che i cadaveri fanno... Cioè, non che i cadaveri facciano le speedrun. Nel senso che i coreani fanno le speedrun. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. Sì, 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 sì. I'll get out of your way when you're done. E qua però, ecco, approfittiamone perché qua possiamo notare come tutto quanto diventa appunto. Vedete, ci sono diversi marchi da fare. E' molto... Ehm... Come si dice? Aspetta, magari ci sono altre cagate. No? Ok. Sono solo lunghe. Sono solo lunghe. Dicevo, c'è della proceduralità. È randomico. Quindi non è procedurale. Vabbè, avete capito. Qua c'è un altro marchio. C'è un bel neo. Eccolo qua. Anzi, una bruciatura di sigaretta fatta dalla zia. Anni orsono. Abbiamo un altro neo. Però sembra in buona salute. C'è, è morta. Però nel senso. L'avete capito. Qua c'è qualcos'altro? Rotate. Aha! Vecchia, signora. Bruta bestia, eh? Ma sappiamo che cazzo fare. Record system. Dorothy Page. Eccola qui. Età, 87. Ah, morirai qua. Ecco cosa diceva la voce. Ottimo. Ottimo. Fiu! Sì, sono bene. Submit. Agio vinto. Posto? C'è l'HUD che esce dallo schermo, comunque. Pronto? Che occhi c'è da perdersi, cazzo. Oh. Ah, mi fissa? Bene. Abbiamo un report. Andiamo a portarlo di là. Velocissimi. Eccoci qua. Oh. We actually do that shit. Mo, si può salvare? Beh, no. Set tutto out so you can just go ahead and get started. Perché è il... Perché questo qua è un tutorial. Allora, ci serve questo. Lay it up. Ok. Prendiamo le robe che ci servono prima. Così siamo tranquilli. I'm missing something. Come missing something? Porca puttana, mi serve l'ago, è vero. Dove cazzo è qua? Eccolo. Ma era questo? Non lo so, non mi interessa più. Là, no, le forbici, perché dobbiamo cucire. La fastidia è che cazzo? Ho già preso tutto. Setting needles. Penso che servano anche questi. Ci siamo? Esatto. E un'altra bucata e via. Così. Così. Perfetto. Questi giovani richiedono sempre questi piercing estremi in posizioni particolari per aumentare il piacere dell'affellatio. Ok. 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 A posto. Ci siamo? Lay it contact. Ecco qua. No, no. Prima mettiamo le lenti in contatto. Apri gli occhi. Puff. Voilà. Voilà. A posto. Poi. Andiamo ad aprire qua. Senza che ti impalli. Andiamo a inserire. No, ci serve. Sulla destra. Sulla destra probabilmente troviamo tutto ciò che ci serve. Perché mi sa che qua è liquido. Eccolo qua. Però ci serve una roba. Cavity fluid. E mo? Ah, la sacchetta vuota. Giusto. C'è la sacchetta vuota. La riempiamo di cavity fluid e siamo a posto. Vedi. Ehm... Che cazzo è? È pieno? Full. Esatto. Poi andiamo a metterlo qua. È geniale. È un giococino. È un giococino. È vaffanculo. È vaffanculo. È vaffanculo. Devo fare i primi tubi di te. È ma I can hold anything else. È abbastanza esplicativo. Ma perché non posso I can hold anything else? C'è due cagate in mano. E droppiamole giù. Oh, madonna santa. Droppiamo giù tutto, va? Per terra. Perché tanto voglio dire, alla fin fine, bene o male, il pavimento è pulito. Il pavimento è a set. Ah, perché non lo posso... Ah, perché ce l'ho in mano. Questa roba qua ce l'ho in mano. Le posso spostare nel... Droppalo i tubi. Vaffanculo. A posto. Dove devo attaccare i tubi? Qua dietro? Devo attaccare i tubi qua dietro? Forse è di qua. Devo attaccare i tubi. Mi ricordavo che c'erano di attaccare i tubi. È incredibile. Al fianco della finestra. Cosa? Ah, qua! Ma vaffanculo! Vieni ragazzi, non l'avevo mica visto. Allora, aspetta. No? Cos'è che ci serve? Il glutarildehyde? Bene. Il metanolo? L'ammen cantatant? E il formaldeide? Abbiamo tutto? Sì? Credo? Non lo so. Questo ci serve. Porca puttana. Vai giù. Ma sì, ma che cazzo ce ne frega. Ma in un ordine... Ehi! Ho un udito da pipistrello. Non c'è altra spiegazione, ragazzi. Ce li butto dentro? Ce li butto dentro? Scusate ragazzi, non l'avevo visto prima, perdonatemi. Immagino il nervoso che avete provato. Ma immaginate il mio godimento nell'immaginare il nervoso che avete provato. Ottimo. Adesso i tubi. Che ho buttato per terra, vero? Eccoli qua. Perfetto. Ma anche la sacca piena di sangue. Perfetto. No? No. Adesso dobbiamo... Beh, abbastanza esplicativo. Quindi, pieghiamo lo scalpel. Andiamo a fare... Non ci arrivo. Forse di qua? Devo passare dall'altra parte? Ok. E voilà. Orca trota. Using items. Some items need to be used directly on the body. To use any items, open quick inventory and select the item needed. PVC. Come? Clipboard. Ci posso infilare dentro la clipboard? Non posso infilarci dentro la clipboard. Mi sa che ci serve roba per tener fermo. Le pinze dovevano essere di qua. Ah, le pinze stanno volando. Le folle, le... Eccole qua. Ciappa su tutto. Dovremmo esserci. Credo di dover utilizzare le forbici per tenere su. Esatto. Poi andiamo di troc. No. PVC tubo. Orcoboia. Ci siamo? Posto? Andiamo un po'. Engage pump and leave the body drain. E engagiamo sta pump. Bello. Bello. Fa un casino porco. Ecco perché nel contratto, sul contratto c'era scritto richiesta donna di belle, di bella parvenza dotata di stivali per fare chaff chaff nelle pozzanghere. Ecco perché. Ora lo so. Auto munita. Ovviamente. Anche autoimmune. Abbastanza liquido? Beh, abbastanza liquido. Abbastanza pulito? Però lei mi sta inquietando. Mi scusi. Oi. L'avete visto? L'avete visto? Beh, non è un problema mio. Ok. Non c'è finta di niente. Rimuovi i tubi e chiudi l'incisione. Ok. Rimuoviamo i tubi. Chiudiamo l'incisione. Perfetto. Come nulla fosse. Questo abbiamo fatto. Fin and empty IV resolver bag. Che ce l'abbiamo. Empy with cavity fluid. Che ce l'abbiamo full. Then insert trocar into the abdominal cavity. Ottimo. Quindi andiamo qua. Ah, ci serve il trocar to the abdominal cavity. Aspetta che il trocar dovrebbe essere qua per terra. Ce l'abbiamo? Ah, è qua il trocar. E allora? Ah, ci serve questo giustamente. Voilà. Ok. Ah. Che devo... È giusto? È giusto? Non so se sta... Sta andando. Che devo fare? Ah. Ma mi muovo io? Fa in automatico. Non capisco. Che bello che si vede la pelle che si alza. Sto imparando molto stasera, eh. Sto imparando veramente tanto. È allucinante, ragazzi. Eccoci qua. Perfetto. Dove devo andare? Mi viene l'ansia. Sta per uscire qualcosa dalla porta. Il Cristo ci osserva. Bonnie. Calmi. Calmi. Che è sta roba? Flow clean. Cleaner base. A solution of corrosion inhibitors. A disclaimer. Bla bla bla. Bla bla bla. Per bla bla bla. Sì, sì, ho capito. Ok. È pieno? Adesso? È full? Ten cleaner. Ok. Dietro di noi c'è un mostro. No. Dietro di noi c'era satana. Ottimo. Mi sta... Mi... Iniziano... Ad esserci... Cose paranormali. Lui è paranormale, sicuro. Quindi? Ma? Che devo fare? Batto un claduto. Quindi i tanks... Ah, devo mischiarlo con il tanks cleaner. Aspetta, 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 aspetta. Devo fare altra roba. Come l'ho droppato? Eh beh, è caduto per terra. Porca puttana. Devo mixarlo. Con che cos'è che devo mixarlo? Aspetta che non l'ho letto. Poop to embleming pump. A posto. Già fatto. Riempito. Mixato. Buttiamolo nella pompa. Un'altra volta sta cazzo di pompa, comunque. Pulito? Splendente? Ci siamo? Mastro lindo? Pulisce la tua lavastoviglie? Da cima a fondo? Anche i residui? Molestia, molestia. Mi è troppo vicino. È andata? Sì, l'ha segnato via. Mosturize to the facial features. Applichiamo il mosturize to the facial features. E ci siamo, ragazzi. Dovremmo esserci. Ok, move to the whip across facial features while holding down, interact until the lotion is used up. Ok, trucchiamo i morti. Ecco qua. Per un attimo ho creduto che tutto il lavoro che abbiamo fatto finora fosse stato solo tempo perso. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Ma dobbiamo per forza lavorare di notte, eh? La butto lì, eh? Beh, immagino che... No, beh, ha senso, perché effettivamente poi è di giorno che ci sono le... Solitamente... Beh, dipende da quando è morto il morto. Però solitamente è di giorno che poi fanno i funerali. O no? Va bene, eh? Chiudo, eh? Arrivederci. Che simpatico. Dattore di lavoro. Eh, niente, abbiamo visto il demonio, ma noi facciamo finta di niente. Adios. Axel, grazie mille per i quattro mesi. Che figo, mi sono innamorata. E vedi, siete deboli. Non c'è niente da fare. Bastano due occhioni a calamita e via. E' da qua che abbiamo iniziato. Schipo, perché lo sappiamo già. L'abbiamo già fatto. Allora, ci servono le chiavi della macchina, se non sbaglio. Da qualche parte dovrebbero esserci. Spegniamo sta cazzo di luce New Age. Di luce, di musica New Age. Bruciamoci le dita col bollitore spento. La foto di Grand Ma. Ottimo. Complimenti a Grand Ma. Questo è il nostro meraviglioso, come potete vedere, la nostra meravigliosa Tana. Composta. E' un open space, ragazzi, molto ricercato in centro. Come potete vedere, ci sono due stanze. Il cesso e la sala. Ottimo, ottimo. La cucina? Beh, la cucina è vicino al cesso. Credo, suppongo. Ah no, non c'è proprio. Le chiavi sono qua, nel frigorifero. Ne sono sicuro. No, mi sa di no. Dove cazzo erano le chiavi? Dentro il pacchetto di donuts, attenzione. Qua dentro non ci sono. Dove cazzo sono le chiavi? Oh madonna, santa. Dove ho messo le chiavi? Ma porca put... Ah, qua, sul comodino. Ma tu dimmi, stavo cercando e ho detto, non saranno mica... State efficienti e mica se li hai dimenticate sul comodino. Sono sul comodino. Temporary items. Temporary items do not take up space in your normal inventory. Use temporary items by directly interacting with the object that requires it to close... Ok, giustamente. Fuori dai coglioni. Via. Pensavo non fosse sul comodino, ragazzi. Cioè, l'idea di cercare delle chiavi è perché le chiavi non sono dove le lasci, teoricamente. Beh, è realistico. Ci siamo. Si inizia. La nostra prima notte. Permesso. Ottimo. Ottimo. Caffettino? Prima di iniziare? Bene, abbiamo già fatto un danno. Caffè bollente sul piede. Gasp. Che cazzo è stato? Che è stato? Iniziamo già? No, allora, sentite. Non possiamo... Io non posso andare avanti con questi jumpscare. Ma non si ferma il gioco? Chi è? Ma dove? Ma come? Che cazzo? Non me ne ero neanche accorto. Il signor maniaco. Ci ha seguiti fin qua. Cosa? Guarda, questo non è divertente. Stop. Tu devi prendere questo seriamente. Tu devi agire rapidamente. Questo è iniziale. Io solo lascio. Io solo lascio. Tu non puoi lasciare, Rebecca. Non posso permettere di questo per te o per altri. È molto più pericoloso. Che sto sbagliando perché l'interazione... Ok. Quindi? Treat it like a normal day. Sì, focus on... Ok, e quindi? Grazie, Raimondo. What the fuck? Buono. Iniziamo a lavorare? Ma scusatemi, non poteva non rompere i coglioni e farci i lavori. Cioè, ci ha semplicemente stalkerato. Seguito, fine in ufficio. Noi dovevamo fare il nostro lavoro, che è quello che ci ha chiesto di fare adesso. Però ci ha chiuso dentro e ci ha detto, fai il tuo lavoro. Inquietandoci abbastanza. Come se lavorare qua non fosse già abbastanza inquietante. Eh, c'era un fascicolo. In inglese, fascicolo. Delle altre cartelle mortuarie. Perfetto. Mentre il cielo rutta. E le chiavi. Dove cazzo stanno le chiavi? Non mi ricordo manco più. Prendiamo i fiammiferi. Ci abbiamo i fiammiferi in tasca? Sì, non so che cazzo servono. Però non si sa mai. Non mi ricordo. Come si apriva la porta? Ci serviva... Ah, doveva insegnarci sulla... Giusto. 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 No? No? Eh? No. Eccoci qua. Tape recorder. Key. Whole key. Ok. Quindi abbiamo la chiave della hall. Abbiamo... No? Scusatemi. Madonna santa. No, no, no. Per favore. Qua si va avanti. Ma quindi le vecchie chiavi che cazzo servono? Scusami. Qua possiamo uscire, no? Beh, ovviamente non aprono sta porta. Andiamo... Iniziamo a chiudere le porte, ragazzi. Sì, perché non mi fido. Sì, perché non mi fido. Basta, basta, basta. Questi jumpscare. Paura della tecnologia, ragazzi. Pronto? Dica. Attenzione. Il nostro primo giorno, il nostro fottuto primo giorno e il proprietario, il nostro capo, ci dice Spero tu mi crederai il prima possibile, ma l'unico modo che hai per sopravvivere è appunto cercare di far sparire il demone che c'è. Lì. E niente. E quindi? Primo e ultimo giorno, giusto? Giusto. Demons WTF? Ah, dobbiamo conoscere il nome del demone. Quindi c'è un demone qua dentro, eh? Eh? Dai, su! You can trust the phones, anything can be manipulated. Perfetto. Eh, ragazzi, sbadiglio, perdonatemi. Ossigeno il cervello, non è perché mi annoio. Bene, perfetto. Magari me lo dissevi prima e non venivo a lavorare qua. Grab a body and get started. Perfetto. C'è un'altra videocassetta. Mini cassette tape, a small cassette lead, the tree, process of possession. Bene, il processo della possession. Orca troia. Eccoci qua. Oh, una santa. Quante cazze di videocassette ci sono in giro? Vabbè, intanto iniziamo a lavorare. Mi sto già cagando sotto, ragazzi. Buonasera. Vengo in pace, eh? Qua mi sento stranamente al sicuro. Questa porta non si apre. Chi cazzo è sto corpo? Com'è che si chiama? Scusa, eh? Com'è che ti chiami? Scusa, eh? Lo diceva sempre la mamma. Non giocare coi cadaveri. Dominic Dougherty. Bene. Iniziamo con Dominic. Però ci serve il robot. L'ho lasciato di là. Sono un cretino. Con calma. Sotti, grazie mille. Ragazzi, avete letto voi? Spero. Avete letto voi? Spero. Quello che diceva il tipo. L'avete sentito voi? Perché io... Mi astengo. Ah! Ah! Dovina un po'? Non c'è più il tipo sul... Sul lettino? Ah, che cazzo! Fermi, boni! Boni. Ho bisogno di... Controllo. Ok. A posto. Eh. Ah, madonna mia. Com'è morto male. Si vede che è morto male. Partiamo col primo corpo. Signor Dominic. Guardi come la faccio girare. È morto col sorriso. Sorrideva sempre. Salutava anche sempre. È uno di quei bravi ragazzi. Allora. Io ho la sensazione che prima o poi sti stronzi... Ci faranno... Boo! Nel mentre che li trasportiamo dall'altra parte. Ti tiro un pugno. Io veramente divento irrispettoso poi, eh. E voilà. Bene. La cartellina. Ce l'abbiamo. Tutto è aperto. Così che il mostro, il demone, possa fare avanti e indietro. Se vedete delle ombre, per favore, ditemelo. Direi che è il momento. Allora, qua ci sono delle videocassette che non voglio ascoltare adesso perché altrimenti passiamo tutto il tempo a sentire cicerare il tizio di sotto. Esploriamo il corpo umano. Vediamo se qualcosa possiamo imparare. E vabbè, iniziamo a rotate da sto posto. Non c'è niente qui da questa parte. Se ti giri ti meno. C'è qualcosa in faccia. Ma perché non posso analizzare la faccia da qui? Ma scusa. Come non lo fosse, continuiamo a procedere. Abbiamo qua delle ripetute punture di Vespa. Si è alzato comunque. Come Scrudis? Ha tempra la ragazza, si vede. Non posso manipolargli la faccia. Capezzolo. Ok. Abbiamo finito? 3 di 6? E la madonna. Abbiamo delle abrasioni sul piede. È un palese proprietario di gatti. Ah, 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 ah. Qua abbiamo un inizio di lopecia. Io sono sicuro che sto stronzo ci sorride appena... Mmm. È che New Reeves comunque. Quanto ci manca? Ci manca un ultimo segno. Io i genitali non li riguardo. Poi fate voi. Ho paura. Ho leggermente un po' paura. Le robe sul braccio l'abbiamo fatta. Cosa manca? Di qua forse. E questo l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già visto. Ah, come si muove piano. I palmi. Ah, giusto, le mani. Bravi, bravi. Bello. Sarà sicuramente l'altro di là. Guardando giù non possiamo essere soggetti a jumpscare. Ha il polso rotto comunque. Ma che è sta cacata? Che diavolo è sta roba? Keratolisi. Non so cosa sia, ragazzi. Perdonatemi. Non sono un medico. Non ho... Non ho la competenza. Eppure siano qua. Quindi, Dominic, 36 anni, ha un rush cutaneo sulla shoulder L. Su L del shoulder. Keratolisi sul braccio, sulla mano del cazzo sta qua. Questo su L. Qua. Voilà. Qua. Voilà. Avete sentito? Ah, la testa. Il rush sulla testa, giusto. Avete sentito? C'è nessuno? Sono pazzo io o qualcuno ci ha chiamato? E' stato Cristo? Gesù. Ma era il cadavere? E sto corridoio è inquietante, ragazzi. Lo so. Lo so. Vabbè, stampiamo. Dov'è? Il file up front. Eccolo qua. Madonna, santa no. Andiamo a mettere via la copia. Ormai schematici. Completamente. Presi, assorti nel nostro lavoro. Bene. Imbalsamiamo. Via. Come si chiamava il dio egiziano che imbalsamava il cadavere? L'imbalsamatore? Non mi ricordo più. Imhotep. Giusto. Giusto. Bravi. Io ho ansia di girare la visuale, vi giuro. Perché so che in sto gioco ci sono quei jumpscares sottili e bastardi, dove non c'è l'audio. C'è il mostro che è lì, mischiato con l'ambiente. Tu neanche te ne rendi conto e dopo cinque minuti vedi che c'è uno stronzo che ti sta fissando e ti ho sorriso così. Ma non è questo il giorno. Ma qua non c'erano robe per fare. E non mi ricordo più un cazzo. Ok. Wire jaw. Needle injector. Setting needles. Eh, ma io non mi ricordo già più un cazzo, ragazzi. Siamo fottuti. Qua dentro trovo le robe. Qui ci sono i tubi. Ma non si vede niente. C'è... Non c'è luce. Ehi! Uh! C'è un tastierino qui. Attenzione! Attenzione! Ok. Non è di qua. Le robe per... Qua. Qua. Ci siamo. Questo. Questo. Che è stato? No, no. Per l'amor del cielo, no. La luce. Ah! No, no. No, no. Posto? Ho vinto. Buono. Buono. Chiudiamo qua. Queste ci servono. Questo? Bisture ci serve dopo, sicuro. Qua? Che è sta roba? Non reggo. Ai caps. Giusto. Ci serve. Posto? Ia. Iniziamo a operare. E uno. E due. E tre. L'animazione è sempre quella? Immagino di sì. Non cambia da corpo a corpo? È soddisfacente? Voi non avete idea quanto. Perfetto. Non voglio girarmi. Non voglio guardare. Dobbiamo mettere le eye caps. Apriamo gli occhi. Inseriamo dentro le magnifiche lenti a contatto. Idratate. Per poter passare la serata più conveniente. In modo più conveniente possibile. Per essere in grado di essere pronti per qualsiasi situazione. Mixing embleming fluid in the pump. Dio Cristo, mi devo girare. Ah! Ok, non c'è nessuno. È qua il mix. Non voglio girare. Io non voglio girare la visuale, ragazzi. Non voglio girare la visuale. Io non voglio girare la visuale. Sto girando la visuale. E se ci metto dentro dello swan. Dell'ultra swan. Del detersivo per i piatti. Funziona lo stesso. Io non vedo le robe. Ok. No, qua non è. Dove cazzo rola era il liquido? Qua? È questo? No, non era questo. Era questo. Sì, era questo. Aspetta. No, non era questo. È questo? No, non era questo. Che cazzo non era? Forma il D. Il D. No, non mi giro. Non mi giro. Non mi giro. Non mi giro. Mi sto girando. Perché? Posto? Niente? Ok. 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 Sono eventi triggerabili. Meno facciamo, meno accade. Non facciamo niente. Abbiamo vinto. A posto. A posto. Cos'altro devo fare? Metanolo. Dove cazzo è il metanolo? È questo? Metanolo. Ma che sono? Bravissimo. Ok. Poi? Il gluta... La gluta al dame. La... Dov'è? Che cazzo è sta roba? Madonna, ma come si fa... Vedete? Questo gode per il suo lavoro. Carta d'accesso. Mr Delber's works beige for body pickup at location a local obstacle. Full access Raymond Delber. Aprile 1944. Forse era meglio farsi ognuno i cazzi suoi. Extra key. Perfetto. E un biglietto. Raimond, I really need a key to the hatch outside. Cleaner is low and you mentioned having some down there before. I know you don't trust anyone to go down there but having a copy of the key would make things a lot easier for everyone. Zoe. Ma Zoe siamo noi. No. C'è roba. Il mio nuovo batch. No, noi siamo Rebecca. Zoe, chi cazzo è? Il demone. Palese. Bello qui. Attenzione. A large old key. Dovevo farmi i cazzi miei. Dovevo farmi i cazzi miei. Ho il demone dietro che mi fa... No, 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 no. Ho vinto. E mo? Qui c'è del bioazzardo. Ah, trovato. Ma no, me, c'è. Ok. Perfetto. Ora. Dovremmo avere l'inventario vuoto, più o meno. Dobbiamo mettere i... Ah, far l'incisione alla carotide. Giustamente. Che cazzo è sto suono? Oh, che succede? Perché la visuale è così? Che è successo? A posto? No, 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 no. Oh Cristo Ah ce ne possiamo andare? Dio nella pioggia Attenzione perché qua c'è un altro edificio Ah questa è la porta Ah ok Bello Ok Però c'è un semi interrato Adesso c'è qualcuno dentro che ci fa ciao ciao con la manina Lì c'è il nostro amico cadavere C'è una porta ma noi abbiamo un large key Che non funziona Abbiamo Quante key abbiamo? Solo una? C'è da sperimentare ragazzi qua Non si vede un cazzo Non vedo un hack Torniamo dentro Inizia a fare freddo Vuol dire freddo Non Cioè non fraintendere Twitch Contestualizza Posto Chiudiamo qua Siamo tornati all'inferno No 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 Devi accendere la luce Come si fa? A posto Easy Abbiamo vinto Cosa devo fare? Ah chiudiamo la porta I tubi di drenaggio Dobbiamo fare l'incisione Ci sono Non me la fa fare Perfetto Credo di aver in parte vinto Ma eppure ce l'ho lo scalpello per incidere E perché non me la fa fare? Ah forse devo usarlo Ah giusto giusto Eeeh Scalpel No Trocker Artery forces Large Non funziona ragazzi Niente Ah devo mixare il fluido prima? Ma se ma io devo fare le robe proprio perfettamente secondo Giustamente Basta Basta Chi è? Chi è? Che eventi paranormali Com'è che si mixava il fluido? Non mi ricordo più Devo attivare la macchina? Non devo attaccare i tubi? Ma no ragazzi Qua c'è scritto In the whole cabinet Cazzo manca Reagente e poi mix Ah già è reagente Aspetta di là reagente Oh merda Devo andare in bagno Ma perché Ma tra l'altro Perché in un'altra stanza? Porca puttana Vacca Bastarda Sera E niente E' già pieno? Ah 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 E' già pieno? No ma questo qua Sarebbe per pulire però Aspetta no Sto sbagliando Questo qua Sarebbe per pulire Sto facendo una cacata Minutamente adesso Ah qua sul tasto destro Abbiamo le videocassette No 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 Allora possiamo Ciapparle su e ascoltarle Un po' alla volta Ottimo Allora Allora Stiappiamolo un attimo su Nightshift database Nightshift database Ma quanta roba che si fa Tre ore per un cadavere Ragazzi Io non so se riuscirò A fare tutto il resto Eeeh Sei tap No Non c'ho voglia ragazzi In realtà sono due pagine Ma non ho comunque voglia Buono Bene Silenzio Dopo ce l'ascoltiamo Quindi Quello è il coso per pulire Esatto Il reagente E' nel mobiletto Dietro la scrivania Ok grazie Perché non me lo ricordavo più Dietro la scrivania Scrivania Questa? Qui c'è il reagente? Ma no Che è sta roba? La pinzatrice? Mi pinzo il labbro Ci sono delle siringhe pure Ottimo Il reagente Nel mobiletto Qua Cavity fluid No Che cazzo era ragazzi Non mi ricordo più E chiudiamo Sta cazzo di porta Va bene Contenti? Dov'è che era? Dov'è preso le cassette Nel mobiletto vecchio Ah lì c'era il reagente Davvero? Qua dentro c'è il reagente Bellissimo Ah ok Ma sta roba Ah perché Bene Cos'è sta roba? Una bottiglia di un liquido sconosciuto Usato? Usato Tu identifai A demonic Tenancy 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 C'è capite? La voce del diavolo L'ho droppato La voce del diavolo È un fruscio di mille acque Quindi Noi mettiamo giusto l'ingrediente E il diavolo Ci c'era fuori Quindi dobbiamo Zeccare il corpo giusto Minchia no Minchia no Minchia no Per favore no No Dove sono i tubi? Ok Ci mettiamo dentro una large old key? Ci mettiamo dentro una chiave larga? Servono i tubi Dove cazzo sono i tubi? Non mi ricordo più Qua dentro forse Sono questi? Yes Non voglio girarmi Io non voglio girarmi Ok Non voglio girarmi Non voglio girarmi Non voglio girarmi A posto? Madonna Figa ragazzi No no Quanto sangue c'ha un corpo? Dai 7 agli 8 litri Silenzio 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 Andiamo a staccare i tubi Quindi Perfetto Richiudiamo Perfetto Ottimo E ora dobbiamo metterci Il liquido drenante Giusto? Quello per pulire Che sta Lì in fondo E andiamo Ragazzi Voi lo sapete Che sta cosa qua Ci farà un jumpscare Vero? E' palese Che prima o poi Prendiamo Il corridoio E dall'altra parte Il quadro Si anima E Va contro di noi Io questa cosa qua Già la so Cristo si tramuterà Nel diavolo E sarà al contrario Io non Non voglio sperimentare La strada E' piena già sta cagata Penso sia già piena Ho leggermente l'ansia Mi porto dietro un vaso Un urla Bella però Ma si rompe se cade No Ah Ho fatto Ho preso un achievement Throw the vase Alla faccia Ma perchè non me l'ha dato prima L'achievements Sono leggermente angosciato E scusami No Mi manca sempre un pezzo Mi manca sempre un pezzo Feel an empty Air reserve bag Ah ok Si Allora aspetta Ci serve un coso vuoto Non vedo un cazzo Madonna mia Come è fatta male sta roba Ci serve un 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 sacchetto vuoto Per i fluidi Però non so dove cazzarola è Sarà qua da qualche parte Qua sopra forse Eccolo qua Esatto E non posso tenere niente Perchè in mano C'ho sta cagata Droppiamo sta roba Esatto Buono Madonna Poi Cosa devo fare Dobbiamo riempirlo Con la cavità Con i fluidi cavity Eccolo qua Esatto Adesso è pieno A quel punto Bisogna inserirlo Nel trocar Ah dobbiamo aspirare Nella 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 Si chiama La roba Si dobbiamo aspirare I liquidi Ragazzi I fluidi Perfetto ragazzi Via il grasso Via il dolore Ci siamo Non c'è Non c'è vergogna In questo trattamento Del corpo Se volete perdere Grasso Facilmente Un'operazione Come questa Potrebbe essere Interessante Ecco Sta diventando Tutto giallo Di nuovo Non capisco Se ho un ritorno D'acidi Perché se ci sono Degli eventi paranormali E la personaggia È anche una drogata Si è messi bene Il vaso lì Ci fa scivolare Ci fa morire E poi dopo saremo noi Quelli da dissezionare A posto C'è un piccolo diavolo lì Ma quello È un ognomo Armato d'asce Ho visto una faccia Io ho visto Continuo a vedere roba C'è qualcuno lì? Non capisco Vedete la X? Ci sono due occhi Dio bono Ma che è? Ma potevo farmi i cazzi miei Un atto Chi è che frigna? Signorina Mi facevi i cazzi miei Mi facevi i cazzi miei Era meglio Se mi facevi i cazzi miei Chi è? Bene Che succede? No 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 T'abbona lì Tabbona lì Tabbona lì Ah Ok E mo? Una piccola foto 1970 L'anno in cui Si è arrivata La casa della morte The world of its creator The full member Shall be six Bene E la signora Dietro di me Non c'è più Mi devo fare i cazzi miei Mi devo fare i cazzi miei Se io mi fossi fatto i cazzi miei Cristo Signor Gesù Ok Nessun jumpscare però Almeno quello Ora Ora Mix cleaner Tank cleaner Then pour into Emblem pump Dove ritornarla dietro No L'avevo buttato giù qua per terra Non vedo Non vedo Eccolo qua Posto? No perché è vuoto Ok Torniamo indietro A riempirlo Intanto il demonio Ora ci abbraccia Mi sta tornando Un altro ritorno d'acidi Che cazzo succede? Ma perché fa così? Sta bene la signorina Ok L'abbiamo riempito Mi giro troppo velocemente Mi sto girando Troppo velocemente La porta dopo Chiudila Agli ordini Tanto ragazzi È questa finta Idea di sicurezza Che abbiamo Che se dietro di noi C'è un angolo Quello è l'angolo Dell'invincibilità E niente può afferrarci Beh ma indovinate L'angolo stesso Ci afferrerà Me ne vado Ok Dovremmo esserci La mistura L'ho già fatta C'era qualcuno Là dietro C'era qualcuno Là dietro Io vedo robe Con la coda dell'occhio Non so se sono vere Se sono rincoglionito io Se è il gioco O meno Apply Mosturize To the facial features Return body To the cold storage Ok dai ci siamo Dobbiamo semplicemente Pulire Pulire la faccia Del Del pagliaccio Qui Poi lo vestiamo Di giubba E via Dov'è che è la Ce l'abbiamo già? Penso di sì No il mosturize Ce l'abbiamo il mosturize Non mi ricordo un cazzo E no E no E dov'è che era? E no che non ce l'abbiamo Qua non c'è Dov'è? Qua Non mi voglio girare Non mi voglio girare Qua No 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 Dov'era ragazzi? Dov'era? Giustamente cerchiamo Inutile che chiedo a voi Che cazzo ne sapete voi? Ignoranti bestie Mi piace aprire e chiudere i cassetti Mi piace aprire e chiudere i cassetti Qua non c'era Dove cazzo era? Qua non c'è Qui ci sono Chi diavola è sta a fare? Non capisco Ah delle brochure Ci prendiamo cura dei tuoi cari Per l'ultima volta Sopra il mobile Dove eri prima? Sopra il mobile Sono circondato da mobili Ma un pochino più specifici No eh Dove Quale mobile? C'è un C'è un Ehi c'è un C'è un C'è un C'è un libro qua sopra Rosso Che cazzo è? Questo mobile? Mi ricordavo che Mi ricordo che Eccolo Era una roba bianca Appunto No Ridi Pagliaccio Abbiamo vinto Quello di legno Grazie Quello quadrato A forma di mobile Ora Riportiamo il cadavere Minchia ragazzi Minchia ragazzi Ci siamo Io non voglio guardarlo in faccia Non voglio guardarlo in faccia Io non voglio guardarlo in faccia Guarda come muove i piedi Le mani Porca troia Ok Ci siamo Ci siamo Perfetto Non riesco Ok Mettiamolo qua Con calma Buono E questo qua E il ciccio E' fatto Madonna Santa No 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 Un po' di fatica Fatto E il primo è andato Che è sto suono Sta pisciando Ah no La pioggia fuori Giustamente Ma qua c'è Un forno Questo qua è un forno Ragazzi Ma Ah dobbiamo fare un altro Chi è il prossimo Pia 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 Porca troia Questa è una donna, signori Il peccato Ah, giovine anche lei Il peccato Fatto forma Di peccato Non voglio vedere, dimmi che è ancora lì Ok, non si è mossa, non si è mossa Siamo salvi, siamo salvi, siamo salvi No, 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 no Signorina, 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 signorina Signorina, 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 no Signorina, no Ok, direi che possiamo lasciarla Possiamo lasciare aperto la roba dietro, succede qualcosa C'ho ansia, c'ho ansia, c'ho un leggera ansia Però se ne è andata via lasciando un bel corpo, eh C'è da dire Sì, devo trovare il corpo del demone, lo so Ma sicuramente non è questo Immagino sarà il terzo qua, il quarto a caso Perché ci faranno fare ogni tanto un po' di E' dietro di me, è dietro di me No, io questa porta la chiudo Non c'è una finta di niente Buono, buono, iniziamo con l'ispezione Iniziamo con l'ispezione Madonna, madonna Allora, partiamo con la testa Perché con la testa? Ha gli occhi scavati La bocca è leggermente aperta Ha un brufolo qui Niente che Photoshop non possa rimediare Buono, pare che in faccia non abbia Rebecca? Rebecca? Mama? Eh? E' una drogata davvero? Che è sta tossicodipendenza qui? Ha la faccia! Ci si sballava negli anni settanta, non sono anni settanta mai. Grazie. Eh? Chi è morto per colpa mia? Perfetto! Ehi! 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 Anche il cane ha drissato le orecchie. Era scontato un cazzo, era scontato, va bene. Perché davanti a me avevo una donna con un'estrema arteriosclerosi multipla, però non potevo immaginare che si tramutasse nel diavolo e che il diavolo tentasse di rimonarmi. Non potevo immaginare, è scontato un cazzo, tu sei scontato. Attenzione, non volevo, perdonami, è stato un momento di ira guidato dall'emozione. Tu non centri niente. C'è un po' sì, eh. Vabbè, quindi abbiamo, basta. Adesso sappiamo che da qui fino ai prossimi dieci minuti non ci sono altri jumpscare. È la regola degli horror. Infatti sono molto più tranquillo e spigliato. Vedete? Molto più tranquillo e spigliato. Molto più tranquillo e spigliato. Molto più tranquillo e spigliato. No, no, sono molto tranquillo e spigliato. Torniamo dalla nuda, che ha sempre delle punture di Vespa sulla schiena. E poca roba in realtà la signorina. C'ha uno di tre. Ha i piedi blu. Però, boh, non so, magari piace. Posto? Ha rush cutaneo un po' ovunque. E via! E va bene. Allora, la signorina si chiama Pia Regers. Togli via sta roba. Entri due, ok. Anni venticinque. Se n'è andata troppo giovane. Dove cazzo sta? Qua. 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 F! Anni venticinque. E di nuovo. Cosa cazzo manca? La testa? La schiena? Ma perché non mi ha messo la schiena? Ok. A posto! È fatta! Ci siamo? Adesso il cadavere non c'è più. Io ho il terrore che prima o poi mi giro e non c'è più il corpo. Ho veramente questo terrore. Qua dopo dobbiamo ficcanasare, eh? Mini cassetta, a small cassetta, tool of expulsion. Per evitare il demonio. Deve essere freddo a sua chiusura. Ah! Ah! Ah no! No! La vedete? Dio Cristo! C'ho i peribidi! Guarda! Guarda! C'è la pelle d'oca! Puttana vacca! Che fa' se si coro contro? Che cazzo faccio? È lì! Ci faccio una foto? Il paranormale? Faccio una foto col telefonino, ma magicamente la foto verrà sfocata. E nessuno mi crederà. Ragazzi, c'ho la... Mamma mia! Che disgusto! No, 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 no. Non c'è bisogno. È questo che intendo con jumpscare intelligenti. Vedete? È questo che ti mette l'ansia. Perché non è il bue, basta. È la presenza, la presenza. Mi sto girando troppo velocemente. Ma la porta qui non era aperta, sta porta. Ah, basta, 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 basta. Dio santo. La regola di dieci minuti è passata. Era passati i dieci minuti. Il tempo... Non ho il senso del tempo. Come i cani. Michael Jackson non cazzo. Non era per niente thriller. Allora. Bla, 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 vabbè, sappiamo già dove stanno le robe. Chiudiamo questa porta. Chiudiamo questa. Chiudiamo questa. Queste robe qua che le abbiamo utilizzate. Poi se ne vanno ad alimentare. Sì, perfetto. Ottimo, così siamo più tranquilli. Vedi come sono tranquillo. Cioè, è più tranquillo di me, guarda. Ah, ok, perfetto. Vedi? Signorina. Si è spenta una luce o si è acceso qualcosa dietro di me? Mamma mia. Sti americani c'hanno una fissa per i denti. Se li portano nella tomba. Va che dentatura perfetta. Io ce li ho gialli storti a catena. Questi invece, va che roba. There we go. There we go. Andiamo poi... Per favore, no. Ci buttiamo dentro. Eh, belle lenti. Voilà. No, non c'è bisogno. Shh, shh, shh. Nell'angolino. Che cazzo succede? Oh! Oh! Non guardate, bambini. Non si fa, eh. Non usate il bisturi. Non introducete lame nel vostro corpo. Oddio! E quindi? Basta, basta sta visione. Ok. Sembra essere tutto a posto. La regola dei dieci minuti. Ci siamo. Da adesso fate partire il timer. Ma perché? Perché no? La Yecaps l'abbiamo messo. Dobbiamo fare il fluido. È una lenta... Questo gioco è una lenta tortura. Perché sarà sempre peggio. Minchia. Ha caricato qualcosa. Ha caricato qualcosa. Ma lì si è spenta la luce? C'è una bestie dietro di me. Veramente alta, magra. Il gioco ha laggato. Ha caricato qualcosa. Se mi compare qualcosa alla finestra, veramente la sfondo. Vi ci entro dentro. Non ti devi girare così velocemente. Non ti devi girare così velocemente. È la regola. Quale cazzo era questo? No, non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Non mi voglio ricordare. Il metanolo. Dove... Ah! Era il metanolo. Era qua. Ciappalo su. Il segreto è muoversi a granchio. A gambero. Vedete? Nulla cade. La formaldeide dov'era, ragazzi? Non mi ricordo mai dov'è la formaldeide. C'è uno strano boato di sfondo. Si sente questo suono sordo. dietro di me? Beh no. È questa? È la formaldeide. È effettivamente la formaldeide. Dovrei iniziare a fidarmi. Oppure no? Ah, dobbiamo mettere di nuovo il liquido del demonio. Che è stato? Posto? Prendo, eh. Opa la lai. Cristo santo, Cristo santo, Cristo santo. Piano. Va tutto bene. Con calma. No, sta per succedere. Jumpscare? Stiamo per avere un jumpscare. Io ovviamente non avrò paura. Forgiato dal fuoco di mille battaglie. Ma voi probabilmente sì. No? Ma... Eppure me lo sento, eh. Madonna! Sta per succedere, ragazzi. No, 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 no. Alla finestra, no, niente. Ma... Cristo! Oh, basta. Basta. È fatta. È fatta. Ce la stiamo facendo. Un po' alla volta. Carino sto aggeggio. Ve lo consiglio. Lo vedete questo affare qua? Utile. Se avete una scrivania, vi serve più spazio. Particolare. Si spegne. Ssss. Ho vinto. Ssss. Adirittura, neanche il segno della cicatrice. Perché sta per arrivare un jumpscare. Voi avrete paura, ma io l'ho forgiato dal fuoco di mille altri jumpscare. Cristo santo, Cristo. Ok. Ok, ci serve l'empty reserve bag. Sì. Sì. Sauron? Sauron? Il palantir? Che cazzo era? Era il palantir? Sì, ma anche no. Che ragazze? Eh, missing something un cazzo. Missing something. Ma cosa? Ma non abbiamo preso il... Il bisturi. Ah, 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 ah. Non c'eravamo il bisturi. Ah, non l'ho preso, è vero. E come cazzo ho fatto l'incisione senza bisturi? Scusami. Cosa sta mancando? Ah, ci serve il... Il... Allora, il coso vuoto dovrebbe essere di qua, se non erro. No, forse è qua sopra. No, dove cazzo era? Qua non vedo niente, non vedo niente, non vedo... Non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, non vedo. Questo qua, mio. Non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere niente, non voglio vedere. Piano, 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 piano. Eccoci qua. A posto. Molto semplice. Piano, lentamente, eccoci qua. Via che si parte. Fino in fondo, direi, eh. Fino in fondo. Ok, un pochino più in qua. Ottimo. E via tutto il grasso epiteliale. Ah, che meraviglia. Poi ci facciamo le saponette e ci picchiamo nei semi interrati. Fight Club, per chi non lo avessi capito. Sì, no, non sto aspirando. Sto mettendo dentro il fluido per... Per causare il corpo. Ecco, quando vai in crisi... In astinenza... Tre lunghi respiri. Guardate un angolo del muro. E giratevi lentamente. Lentamente. Molto lentamente. Perfetto, non c'è niente. Ho vinto. Ok, buono. Quindi, adesso, il corpo si è mosso. Il cadavere si è mosso. Il cadavere, non è cadavere. Mix cleaner in the bathroom closer. No, io non vado nel bagno. Non voglio andare nel bagno. Io non ci voglio andare. Io là non ci voglio andare. Cristo santo. Non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Io lì non ci voglio andare. La foto è ancora lì? La foto è ancora lì. Ok, ok. Dovrebbe esserci un uno per terra tra l'altro Di quegli stronzi che l'ho gettato giù Per errore, per errore Ok, non c'è niente, ottimo Calmi Ok È fatta, ho leggermente vinto Che cazzo devo fare? La porta, chiudiamo la porta Chiudiamo quella cazzo di porta Perfetto Perfetto Tank cleaner E che cazzo, e lo stavo E non va più Non mi ricordo più cosa devo fare ragazzi, ho sempre un vuoto di memoria C'è il vaso da guardia? Eh già, con quello siamo a posto Mix cleaner Cleaners in the bathroom Closed Puttana vacca che ansia Stiamo qua Ma mi giro perché sento i suoni Se uno ti fa Tu non ti giri? Beh no, se te lo fanno alle tre di notte C'è una luce in camera tua Che flasha No, è la luce del Eh, lo so ragazzi Lasciate stare Devo sistemare Eh Si chiudono da sole le porte Lo so Allora Devo mischiare i cleaners in the bathroom Closed to create a tank cleaner Ma io l'ho fatto Però mi dice che non Non è andata Eppure Ragazzi È qua L'ho riempito Vedete? Flow clean L'ho droppato Ottimo Non capisco perché non me lo fa fare Ah Cristo Pronto? Dica Chi è? Eh, me l'hanno detto di fare Perfetto 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 Questa si Questa si alza ragazzi Questa si alza Questa Io mi avvicino Lei si alza Io mi avvicino Lei si alza Dai Ci mancano due cose Abbiamo fatto Dai, con calma Stiamo per avere Un leggerissimo jumpscare Un soffio al cuore Un battito saltato Ma tranquilli Perché all'unisono insieme Sopravviveremo Sì Cristo no Cristo no Devo mettere il mosturizer Nella faccia E non mi ricordo più Dov'è il mosturizer Era qua? Dove cazzo era ragazzi? Non mi ricordo il posto delle cose No 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 Qua era Era qua Era qua Era qua? No No Dov'era Dov'era Cazzarola Sopra? Nella teca? Qua Qua Nella teca? Nella teca davvero? Pucciardi Pucciardi Sopra le pompe Volgare Qua Ok 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 No ragazzi No No ragazzi No Calmi All right All right un cazzo all right Non mi pare molto all right ormai Return boji to the cold storage Apri la boja Le eccala là Eccala là Eccala là Si è spenta la luce Si è spenta C'è qualcuno lì C'è qualcuno lì Ah no 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 Il coso di prima Calmi Calmi Facciamo finta di niente ragazzi No che cazzo fai? Che cazzo fai? Attaccati Non guardare Non guardare Non guardare Non guardare Non guardare Mi è treza lentamente Eh oddio Oddio Pensavo fosse una faccia bianca Questa si alza Questa si alza Questa si alza Si alza con trita Si alza Mmm Ah 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 Bene C'è un altro cadavere Abbiamo fatto il secondo Gli altri due non hanno nome Oh cazzo No Cosa c'è là dentro? Cosa cazzo c'è là dentro? Cos'è sta roba? Ah no è vuoto Ok Una tomba vuota Mr. Scrooge Il canto di Dickens Il Natale del passato Del futuro Del Sentite eh Sentite Eh non ce la faccio ragazzi Perdonatemi Ah Ah Ma se ci pigliamo Una bella boccata d'aria Pausa sigarettina Eh che dite Dai si 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 Oh La macchina è aperta? E scusa? Ma possiamo andarsene? Non credo Oh Ragazzi Facciamo una bella cosa Dato che sono le 23 23 come i battiti Che faccio al minuto ormai Perché il cuore Proprio si è Si è Si è ragrumato Una prugna secca Direi Fermiamoci qua Lo continuiamo la prossima volta L'ansia Dico solo questo L'ansia con l'H E con la R maiuscola Sto veramente Sto bene Quindi insomma Non posso girarmi Quindi me ne sbatto il cazzo Anche se dietro di me E lo so che siete arrivati ora Dovevate arrivare prima Fine Eh no Non ho i traumi Gli avevo già prima Diciamo che questi Medi amplifica Bello sto gioco Si 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 ragazzi Un bellissimo gioco Bello bello Mi piace soprattutto La questione Peccato che non si possa salvare Mi piace soprattutto La questione del Vabbè salva in automatico Quindi teoricamente La questione del No ragazzi Se chiude Sì alle 23 Noi chiudiamo Non posso stare a urlare Tutta la notte E non posso avere gli incubi Non posso non riuscire Ad andare a nanna Comunque detto ciò Dicevo Mi piace un botto La questione dei jumpscare Che è curata Perché non sono i soliti jumpscare Non sono i jumpscare Buttati lì a cazzo Ma sono dei jumpscare Più che altro Studiati Visivi Che mettono Che mettono Che disturbano Sono disturbanti Questa è la cosa E questa è la cosa Peculiare Questa è la cosa Figa La miglior Horror night mai vista Addirittura Beh si E' un bel giochino horror E' un bel giochino horror Su un'ansiogine si Io ho l'ansia di girare La visuale Io ho la mano destra Che è incorata Sul mouse Ancora Ma qua Si è impallato il gioco Madonna Demon banished Zero Perché ce n'è più di una Turni completati Zero Quanti cazzo Ma quanto dura un turno Scusami Cioè quindi a ogni turno Io devo trovare un demone No ma siamo fuori Cioè questa cretina Finisce di fare il turno Torna a casa Se la ronfa E poi decide il giorno dopo Di tornare a lavorare Qua Donne Perché Perché vi mettete In queste situazioni E ci sono cinque finali Eh la madonna E race data C'è da pensarci C'è da pensarci Vediamo se hanno aggiunto Se c'è l'italiano No non c'è proprio Altra lingua C'è tutto quanto in Tutto quanto in inglese Peccato Vabbè La metteranno sicuro Ragazzuoli Questo gioco Ve lo regaliamo Alla fine Perché secondo me Questo è il gioco indipendente Che stavate aspettando Quindi Quindi Io vi direi Di utilizzare i punti canale Per poter E c'è soltanto La versione pc Quindi vi regaliamo La chiave del gioco Adesso oggi È il 2 Quindi lo facciamo Settimana prossima Perciò utilizzate i punti canale Con i punti canale Appunto Potete Con i punti canale appunto Con i punti canale appunto Potete vincere appunto Il gioco 20.000 punti canale Ok Punti canale perché Perché appunto Quei punti canale E la gente Che è qui da più tempo Può permettersi Di giocarsela Rispetto a chi è arrivato prima Altrimenti noi Buttavamo la chiave Direttamente E vaffanculo Ma nel rispetto Di chi ci segue sempre Ci pare giusto Utilizzare i punti canale Quindi appunto Quei punti canale Dovete Potete farlo Per chi è già No niente Stavo dicendo una boiata E quindi insomma Ecco Va bene Tutti possono partecipare Sia sub che non sub Ve lo dico Ottimo Ottimo Ovviamente Date solo Date solo brutte notizie Volete vedere La gente piangere Ma io non sono Affetto Da questo Trattamento Vedete Gamer Gamer Il meglio Il meglio della musica soft Ok ottimo Ok ottimo A posto Molto romantica Comunque Mi metto un ristorante Due candele E Il ristorante Che va a fuoco Ragazzi Mettono le Le tovagliette di carta Ovviamente Le candela Cazzo vuoi che succede Uno che non è in grado di Si avvicina al vino Vola giù la candela Il delirio Quindi Qual è il tuo colore preferito Mi hanno imposto Di dire il nero Quale oro Rai il top Questo oro è il top Si è top È assolutamente il top Come cazzo hai scritto Wu-Tang Ti prego Cioè Lo so che non lo sai Può capire Ma come Ti è venuto in mente Samuele È incredibile Riprendiamo in settimana No Perché non Facciamo un oro night A settimana Anche se Questa settimana Ragazzi C'è una sorpresa Venerdì Stiate sui social Anzi Ve lo dico già adesso Perché siete qua Facciamo una live Con il team d'Arcadia Ci sarà Curo Lili Ci sarà Codomo Tutti insieme Giochiamo a Mostrum Che è un gioco horror Sempre però cooperativo online Da quello che mi hanno detto Perché io non so un cazzo Di questo gioco Dal momento in cui Non me ne frega Non mi informo Sono una sociale Sto bene così Questo gioco Praticamente è un gioco horror Dove appunto Si dovrebbe stare Sotto un sottomarino C'è anche Andrea Ovviamente c'è anche Andrea Ovviamente c'è anche Andrea Lo dico tre volte Così vi ho preparati Sì c'è anche Sì c'è anche Andrea Quattro volte eh WeRising non le portate più No ci fa cagare Ci piace buttare i soldi Come l'aveva già detto ieri Quindi niente sorpresa Curo Lili l'aveva già detto ieri Allora vaffanculo Eh Fatevele dire dagli altri Le cose le vengo a sapere Sempre dopo Cado dal pero Cado Domani che porti Domani un altro giorno Domani cosa c'è Andrea Tu che lo sai Per favore Non mi dire WeWareEarForever Perché io quella roba lì Non la tocco più Non me ne frega più Un cazzo MadEyeZone Ti ho inviato su IG Cosa devi fare Per trovare la convinzione Del lucchetto Ma caffè Non so se giocherò ancora A A MadEyeZone A pazzo Ciao Figlio Domani c'è Fallout 3 Ma come Ma che cazzo Ma chi l'ha fatta sta programmazione L'hai fatta tu Ma no Ma Fallout 3 si fa nel fine settimana Che è più rilassante Fammi vedere che cazzo Di programmazione c'è Ma io non lo so Ma guarda È allucinante È allucinante Molto soft porn Sta musica No dai Allora Aspettate che vado a vedere Che cazzo c'è scritto Sempre su Discord Ragazzi Potete trovare La Gli orari Programmazione della live Settimanale Che ovviamente È soggetta A dei cambiamenti Perché a noi piace Cambiare Come le scale Allora Martedì Mortuary Assistant Con l'Horror Night Quindi stasera Domani c'è Fallout 3 Ah ma domani è già mercoledì O fide Giovedì We were here forever No 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 E venerdì appunto Monstrum 2 Ah è il 2 Questo E poi c'è pure Quindi c'è pure Un 1 di Monstrum Beh ecco io Non lo sapevo No non si è completato Madison Tranquilli Ma mi sei bloccata La Mi sei bloccata la live Eccovi Come sta Andrea Sta ragazzi Sta È sempre lì Un creativo Sempre a creare Compone musica Compone musica Si è fissato col flauto traverso Vuole unire il flauto traverso Alla trap Particolare Ma ci riuscirà Quindi cerca di fare Della musica Asiatica Col flauto traverso E anche con Dei suoni gutturali Che danno un ritmo Nel mentre Che fa Delle rime baciate Un prosa Un prosa nel senso Che si mette in posa Lo riporterai Doom No Basta È finita ragazzi Il T9 Che ha scritto Wutan Non ti perdono Se ci sarà Weaver Rear Forever Che mi dici Di Cry of Fear E insomma Wutan sta meglio Da quando siamo andati Al lago Se è un pochino ripreso Volete sapere La conformazione Delle sue feci Beh diciamo Che non sono Diciamo che adesso Sembrano feci Prima no Prima erano qualcosa Di inquietante Però adesso Sta molto meglio Perciò A posto E Si sta attivando È cresciuto Un fottio È molto più alto Di un cane normale Solo che adesso Gli sta venendo Il brutto vizio Di salire sul divano Pesa già Probabilmente 20 chili E Quando ne peserà 65 Ne riparliamo Ieri un simpatico signore Si è fermato Per accarezzarlo Aveva la borsa Con del cibo dentro Wutan gli ha aperto La borsa Con una zampata È stato molto Molto divertente Io gli ho detto No non si avvicini Non si avvicini Per favore Non si avvicini Oh che bello E gli è esploso Il cibo in mano Porti bendico Cazzo ci starebbe Ci starebbe un sacco Mi fa male qui Quando premo qui Forse non dovrei Premere qui Perché mi fa male qui Se premo qui Un dottore Darkwood non l'ho più Continuato Però su youtube C'è la serie Su god of war Ragazzi Darkwood non l'ho continuato Perché è un gioco Molto lungo E E non ho È stato È stato anche un periodo Un po' di merda Quindi non sapevo neanche Come fare le cose Non ho avuto tempo Di farle Tutto molto intrecciato Un delirio Quindi insomma È andata un po' così Però lo riprendo Lo riprendo in mano Promesso Lo si fa Mostraci il cagnolone Certo Come no The Sims Che ne pensi Volevo chiedertelo da tanto The Sims The Sims è un gioco da madonna Figo Però il problema È che è un pochino Ci starebbe utilizzarlo Con delle mod Ci abbiamo già pensato Andrea E soprattutto Andrea Sulla questione mod Per poter portare Il gioco Diciamo Una versione un pochino Più Adulta E non quella classica Perché The Sims 4 Fa un po' cagare Secondo me Rispetto ai precedenti E l'ultimo Proga C'è anche la mod Del sesso E continuavo a ripetere Queste cose qui Però Mi è sembrato Insomma Non so se si può portare Su Twitch Cosa faresti Se ti tagliassero la barba Mentre dormi Continua a dormire C'è scusami C'è nel senso Mentre sto dormendo Come faccio ad accorgermene Ti consiglio un giochino Che dovrebbe uscire Verso dicembre In pixel art Sviluppato da un italiano Si chiama Moe Flake Ma No ma Aspetta E' già uscito forse Forse ho la demo No 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 Lo sto confondendo con Moe Flake E l'ho giocato su Playstation 4 Per i cazzi miei O meglio Ho speso 7,99€ L'ho acceso Ci ho giocato 10 minuti E non l'ho più riaperto Bossier Grazie mille L'ho trovato Però era carino Era tutto quanto in pixel art E aveva questa roba un po' No era bellissimo Veramente bello visivamente Però era un'avventura grafica Ho capito Ma su The Sims Se vogliamo Prendere anche i DLC Vai a spendere 500€ Uno scherzo Controlla su Steam 500€ Minchia Vabbè ma non devo Per forza Prenderli i DLC Magari si può prendere Un DLC particolare Eh ma il problema È questo Quello che mi ha fatto Incazzare The Sims 4 Che io L'avevo Ci ho messo sulle mani Due netti fa In ritardo Rispetto alla data di uscita Ecco ho notato che Costa intanto un fottio Ancora Nonostante Il Tempo trascorso Dall'uscita Ma poi i DLC Cioè I DLC che sono necessari Perché la versione vanilla Di per sé non ha un cazzo Cioè puoi fare The Sims 3 Ma Con addirittura Meno roba Quindi sei costretto A comprare DLC Per mettere Contenuto E ogni DLC Costa dai 27 in su Ci sono robe anche da 40 60 euro Sono fuori di testa I capelli di Natale buffi Ma vai un pochino Deflettiti a cagare Cazzo Sì ad Outlast Ci abbiamo giocato Da soli Nel buio Della stanza Con tutti i pacchetti insieme Vai a pagare 480 euro Beh non sono 500 Chi di due mente Ad occhio Così è Andrea Hai provato Terminator Resistance No Le mod sono Una servezza Di The Sims In The Sims Si E' l'unico caso In cui Solitamente Vado a Sapete che io Non sono per le mod Non mi piace A me piace l'idea Che il videogioco Deba essere giocato Così come l'ha pensato Lo sviluppatore Infatti quando mi leggo Certi commenti Tipo Deve uscire a breve Spider-Man PlayStation 4 Non so se vi ricordate Per PC Che lo giocheremo Quindi è Spider-Man PlayStation 4 PC Che giocheremo Lo porteremo Così vediamo anche le differenze Sarà una bella live Quindi Siateci In generale In futuro Non Miles Morales L'altro Ma forse ci comprende Anche di Miles Morales Adesso non mi ricordo Il fatto sta che appunto Deve uscire Uscirà a breve E la gente già diceva Ah non vedo l'ora Di vedere che mod Ci mettono sopra I PC Ma porca puttana Ma non ti basta il gioco Cioè tu Non vedi l'ora Che il gioco Venga moddato Come God of War Uguale Cazzo Chissà quale mod Ci mettono sopra Porca troia Ma gioca al gioco E basta Cioè già lo devi rovinare Con le minchiate Resident Evil 8 È un gioco di merda È appurato Noia pura C'è nel senso Di oro non ha un cazzo Non è un gioco di merda Ma di oro non ha un cazzo Ok va bene Carino Dopo una settimana Che è uscito La prima mod Erano ovviamente La Lady Dimitrescu Ignuda Che cammina per Il castello Capite? Capite perché L'ho scaricata Quella mod La mod di Shrek Simpatico Dino ho fame Anch'io Allora Io volevo leggere Un pochino di news Perché è da un po' Che non mi interesso Del mondo videoludico Vediamo insieme Multiversus Le migliori squadre di coppia Per vincere le partite Ma andate un po' A cacare Game Pass Annunciate le novità Di agosto Per Xbox Cloud e PC Ma io volevo leggervi Una notizia Che avevo letto Non mi ricordo Dove cazzo era Dove Sony Ha in qualche modo Accusato La Microsoft Di monopolio C'è Allucinante Però Dove cazzarola sta? C'è o non c'è? Ma certo Che non c'è Forse è la notizia Del cazzo Videogiochi Cinema Ma chi se ne frega Del cimena Vediamo un po' Se c'è Dove cazzarola è? Aspetta un attimo Lo cerco Lo cerco Perché era una notizia Abbastanza strana Solitamente Microsoft risponde All'accusa di Sony Eccola qua Merito al rischio Di una situazione Di monopolio Però questo qua Di quando è? 11 ore fa Eccolo La risposta è sempre quella Fai merenda Con Multiplayer.it Eccoci Salutiamo i ragazzi Di Multiplayer.it Tommaso Pugliese Microsoft Questa è la risposta Di Microsoft Però Allora Come ricorderete Perché ovviamente Lo ricorderete Sony ha espresso All'antitrust Brasiliana L'antitrust Brasiliana No aspetta L'antitrust Brasiliana Brasiliana Ma a quanto pare La situazione è più o meno La stessa Nei vari paesi Le proprie perplessità Circa l'importante Operazione Battendo su due argomenti In particolare Il fatto che Call of Duty Non abbia rivali E che L'eccessiva crescita E per l'eccessiva crescita Di Game Packs Game Packs Xbox Praticamente La Sony si lamenta Del fatto che adesso Call of Duty Un'esclusiva di Microsoft E che questo significa Che Insomma Gira un po' il cazzo Però Io sono andato a leggere Non è che Sony ha detto Vaffanculo Microsoft Monopolio Ehh No Ha semplicemente detto Avere Microsoft Avere Call of Duty Dalla propria parte Insomma È una bella batosta Nel mondo di FPS Perché è quello che comanda Però non ne sono sicuro Perché voglio vedere Un attimino Ah c'è proprio il video Guardiamoci il video Dai Call of Duty Non arrivato Qualquanto Di tanto alto Il volume Ma siamo Un po' è un pelo Si sente? Si si sente Dilan Bolleugna Grazie mille Bestiaccia Grazie Bestiaccia Lutubalhalla Red Sai chi ringraziare Che I'm from Brazil Ma ve lo ricordate Quel vecchio meme del canale Che questo ragazzo Stavano giocando Cosa stavano giocando Andrea Call of Duty Che a certo punto compare Uno che ci dice Vengo dal Brasile Io gli ho urlato Completamente a cazzo In preda al panico Non me ne frega un cazzo Non mi ricordo Per quale motivo Mi avevo inveito Era Warzone Adesso ragazzi Sono sotto Diciamo Cure Di rabbia Non so Gli ho urlato fortissimo Non me ne frega Ma a me non me ne frega Un cazzo Tipo una roba Magari c'è ancora la clip Mi sono proprio incazzato Adesso a riguardare Quella clip lì A ripensarci Mi dispiace pure Perché non mi ha detto Però ha iniziato a dire Io sono del Brasile E a me che cazzo Me ne frega Vabbè Effettivamente Non me ne frega un cazzo Bello con sta musica Mentre spari ai civili Guardate Dopo aver riferito Di fronte all'antitrust Europea Insieme a Nintendo Sony è stata interpellata Anche dall'autorità brasiliana Ripadendo la propria preoccupazione Brasiliana Come l'ha detto Per l'acquisizione di Activision Da parte di Microsoft La compagnia proprietaria Di Playstation Ha sottolineato Soprattutto l'importanza Di Call of Duty Evidenziando Come nessun altro Team di sviluppo È attualmente In grado di realizzare Un'esperienza Che possa competere Con God Per la precisione I portavoce di Sony Hanno dichiarato alla commissione Che nessun altro sviluppatore Può dedicare Lo stesso livello Di risorse ed esperienza Nello sviluppo Di un gioco Cioè stanno facendo Stanno facendo una commissione Dell'antitrust E Sony dice E Call of Duty È il leader del settore Degli FPS Nessuno può competere Quindi sì Sony ha praticamente detto All'antitrust Che Microsoft Ha il monopolio Per quanto riguarda Almeno Call of Duty Gli FPS Blah 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 Però è una gran minchiata Ragazzi C'è Destiny Che adesso fa parte di Sony Si è appena comprata Cosoli Destiny è un gioco di merda Questo è appurato È oggettivo Poi se ti piace Nessuno ti dice niente Però Destiny Un gioco di merda Detto ciò Come Come la mettiamo È un po' Imbarazzante qua E se potesse Il brand è così Fortemente consolidato Che nessun concorrente Non importa quanto rilevante Potrà mai superarlo Hanno poi aggiunto Che Call of Duty È stato il gioco Più venduto Per quasi ogni anno Nel corso Dell'ultima decade Sto fumando in faccia Mi sta andando La chat Praticamente un sinonimo Di sparatutto Si è imparata la chat Ottimo Ragazzi Perdonatemi Perché non vedo Nuovi messaggi Perché Streamlabs Fa così ogni tanto Aspetta che ricarico Ah ecco Eccovi Si è imparata la chat Ragazzi Per caso No Non avrà Allo Destiny La Playstation No Si è imparata No Ah ok Mi si è imparata Nessuno Nessuno scriveva All'unisono Nei mesi scorsi Ma scrivete Che poi mi dicono Che botto Botto le chat Ma è impossibile Che tu abbia Tutti questi spettatori Eh madonna È solo grazie a voi Che il canale sta crescendo Che pulito eh Quest'uomo Ecco però Ste lecate di culo Mi fan girare i coglioni Ecco A tutti gli stronzi Che dicono La fuori Che non esiste La console war Eccola Quando le stesse compagnie Le stesse major Eh Bla 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 Alle spalle All'antitrust Eh il monopolio C'è effettivamente Ragazzi Microsoft Da una parte Fa girare il cazzo A Sony Perché diciamoci la verità Se Sony Si è conquistata Il podio Tra Gli studi di sviluppo Col tempo E le sue esclusive Che Meno male Adoro tutte Mi piacciono Si beccano Gioco dell'anno Praticamente ogni anno E sono felice di questo E sono felice soprattutto Perché adesso Stanno anche Prodando su pc Ma vabbè E effettivamente Da una parte C'è uno studio Che pian piano Si è costruito La sua fetta di mercato Con i suoi soldi E bla 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 E da una parte C'hai una compagnia Che semplicemente Butta giù il cazzo E compra C'è La scalata La vetta Della Microsoft È dovuta A un tesoro Di sfondo Che è Imparagonabile Imparaggiabile Come cazzo fa La Sony A competere con Microsoft Prende 80 miliardi Si compra La cosa Con dentro Bethesda Si compra Zenimax Con dentro Bethesda 300 cose Di sviluppo Promette di fare 60 nuovi giochi Esclusivi Bla 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 C'è capisci Che dall'altra parte Sony dice Porca puttana E io cosa devo fare Effettivamente C'è Se ci pensate È tosta come roba Come fai a competere L'unica cosa Che puoi fare Per competere È non competere Continuare a fare Quel cazzo che fai E stare nel tuo O sia le esclusive Eccetera Però se tu vai a chiedere Ci sta che magari L'azienda ti dice Eh beh Si sono comprati Call of Duty Call of Duty Il leader del settore Fps E come cazzo faccio A competere Effettivamente Se ci pensi È vero Call of Duty Vende la madonna di dio Ogni anno che esce Però D'altronde Oh È andata così Sono acquisti legali Io adesso Non so come funzioni Perché so che appunto C'è sta Sta cosa dell'antitrust Che si lega All'acquisto di Zenimax Perché tutto ciò È appunto legato All'antitrust E a Zenimax Quindi all'acquisto Che ha fatto Due tre anni fa La Microsoft C'è una roba vecchia No L'anno scorso Non mi ricordo più Una roba Se si può fare Però intanto L'han fatta È difficile Sono cose strane Sì come fa la Nintendo E beh la Nintendo Fa quello ragazzi Poi il Game Pass È un'altra cosa È un altro sistema È una genialata È un modo per E diciamo appunto Un mezzo Per poter ottenere Diversi giochi Spendendo poco Poi vabbè La qualità è differente Però c'è un'enorme quantità Un'enorme offerta E anche Sony appunto Sta cercando di fare Stesso di emulare Ma non ci sta riuscendo Però dobbiamo dargli Anche del tempo Effettivamente Perché da poco Che ci sono i nuovi abbonamenti Però insomma Dal punto di vista Delle strutture Dei servizi La Microsoft È sempre imbattuta Però cazzo Stesso anche sulle console Nintendo Matt Booty Capo di Xbox Game Studios Ha poi aggiunto Che l'obiettivo Di queste acquisizioni Non fosse tanto Togliere qualcosa Alla concorrenza Quanto aumentare Il pass Xbox è rotto Mi è difficile dire Pass Xbox Ma Su PC sì Su PC non mi funziona Quasi mai un cazzo Soprattutto se streamo Però vabbè Ma anche lì Lo sistemeranno Su Xbox Non lo so Perché non ho l'Xbox E anche questo Sarebbe un punto critico Secondo Sony Xbox Game Pass Sta crescendo troppo La compagnia giapponese Ha sottolineato Che durante La Sony si è creata Grazie alla Microsoft Che cazzo Ci vuol dire Sta cosa Scusami Buonanotte Che sta andando Ragazzi È stato un piacere Chi non gliene frega Un cazzo Andate pure Andate a riposarvi Ci vediamo domani Di 10 milioni Di abbonati Anche se Ogni odente Avesse pagato Per il tier Più basso Da 10 dollari Al mese Ciò sarebbe risultato Inoltre 1,2 miliardi Di dollari Di ricavi Dalle sole Sottoscrizioni Quando poi Microsoft Ha annunciato L'acquisizione Di Activision Nel 2022 Game Pass È cresciuto Fino a raggiungere I 25 milioni Di abbonati Con un aumento Del 38% Rispetto a gennaio 2021 Raddoppiando le entrate Annuali relative Alle sottoscrizioni Sì però Questi calcoli Che sta facendo Sono calcoli Del cazzo Perché sì Tu puoi dire Un miliardo Di guadagni L'anno Sì ok Ciccio Però Hai idea Di quanto costa Prendere un'esclusiva Momentanea Al day one Su Xbox Tipo ad esempio Red Redemption 2 Quando uscì Che poi lo misero Gratis Sull'Xbox In pass Avete idea Di quanto hanno pagato La Rockstar Per metterlo gratis Quel mese lì Perché altrimenti Sera sono so Debuttati Cioè lì vuol dire Che vai dalla compagnia Di turni Di città Ti do 4-5 milioni Per mettermi Quella roba lì Cioè insomma Sono soldi Quindi non so Quanto può valere Cioè qui non si sta tenendo Conto solo dei guadagni Non delle spese Per adesso Da quello che so Sono ancora sotto La Microsoft Non ci sta ancora Guadagnando Dall'Xbox Game Pass Ma è un progetto A lungo termine Ad almeno 3 miliardi Di dollari Personi Insomma Il rischio di monopolio Per il mercato Dei videogiochi C'è a prescindere Da Call of Duty Almeno finché Non sarà chiaro Quanto il nuovo Valkiria Grazie mille Lotto Valhalla Che consente agli utenti Di accedere a centinaia Di vecchi giochi Andrà a influire Sulle vendite Del software Gio Grazie mille Lotto Valhalla Ricapitolando La posizione Della casa Ricapitoliamo Attenzione Che sia per filosofia Aziendale O per evitare Di avere problemi Con l'antitrust Microsoft non vuole Rendere esclusivo Call of Duty Che quindi dovrebbe Continuare a essere Disponibile Anche su Playstation Però vedi anche qua Qui c'è la controparte Cioè qui c'è Ma Sony che cazzo dici Perché appunto Non sarà esclusiva Microsoft Cioè i giochi Comunque usciranno Call of Duty Uscirà anche su Playstation Quindi sti cazzi Cioè Capite Sono discorsi Bastanza strani Da parte di Sony Altrettanto strana La risposta Di Microsoft Cioè non lo so Sono indagini Particolari Cioè che senso ha Perché focalizzarsi Proprio su Call of Duty Tra tutte le robe Che ha comprato Cioè se mai potrebbe Sony potrebbe dire Aver comprato Zenimax Vuol dire Activision Eccetera eccetera Vuol dire Aver la possibilità Di rendere esclusivo Un sacco di materiale Che a quel punto Renderebbe effettivamente Cioè a quel punto Sarebbe effettivamente Monopolio Però se non è esclusivo Il monopolio non c'è Perché comunque Lo vendi anche su altre piattaforme Quindi sto cazzo Boh non lo so ragazzi È stata una notizia strana Che ho letto Che ho letto ieri Stamattina l'ho letta Mi ricordo Il tempo è relativo E quindi insomma Boh Lo scenario più probabile Sarà quindi la presenza Dei nuovi capitoli Al day one Su Game Pass Magari insieme A qualche contenuto Esclusivo per l'ecosistema Xbox Anche per questo motivo Il via libera Da parte della federal Vabbè sti cazzi Insomma Niente Ve lo parlo di sta robina qua Scusate se ho rotto il cazzo Ero giusto curioso Di vedere Di approfondire sto argomento E niente E basta E voi che ne pensate Lasciate un commento qua sotto Esaustivo Grazie se possibile Darkwood Adesso corro molto forte Contro una vetrata In vetro cemento Buonanotte Voglio vedere la clip Di Dino Ancora Non c'è Non so dov'è Devi cercarla tu Buonanotte Buonanotte a chi sta andando Adesso chiudiamo anche noi Ragazzi Ah ma sono le 23.41 Allora qui Diamo adesso Come discorso Spider-Man che va Non è dei diritti di Sony E quindi sviluppano film In ambe due Gli universi Anche se Vabbè bestiacce Dai allora Non mi ero I risulti conto Effettivamente che è un po' Tardino Fate i bravi Fate i boni Ci vediamo domani Le 21.30 Con a quanto pare Fallout 3 Ma adesso vediamo Ricordatevi che la programmazione Può cambiare Io spero vi siate divertiti Io mi sono divertito No non è vero Ho avuto paura Ho avuto ansia Ma ormai fa parte Di Copp TV L'Horror Night E intrinseca Sappiate che comunque Mi piglierò una pausa Per una settimana o due Dalle Horror Night Dopo che finiremo di fare Le diverse Horror Night Che ci sono da fare Questa settimana Sarà una settimana Bella cicciona Bella corpulenta Bella obesa Body shaming Al tempo Alla settimana E siateci Godete E mangiate Guardatene tutti Questo è il mio corpo Blablabla Solite minchiate Ci vediamo domani Grazie bestiaccia È stato un piacere Ciao Ciao